Ancora musica, anno nuovo, disco nuovo, presentato in anteprima a Umbria Jazz Winter, Talking Strings. I temi più belli di autori come Irving Berlin, Cole Porter e Duke Ellington, riletti da una coppia musicale molto affiatata, il pianista Dado Moroni e il chitarrista Luigi Tessarollo. L'album uscirà ai primi di marzo, da Orvieto d'Inviata. Talking Strings, corde che parlano, è il suggestivo titolo di questo progetto che celebra l'incontro tra due strumenti, chitarra elettrica e pianoforte, che non è frequente ascoltare insieme. Lo spiega uno dei protagonisti, Dado Moroni, pianista di fama internazionale. Tra chitarristi e pianisti ci può essere qualche problema perché tutti e due suoniamo uno strumento armonico, se non ci si ascolta. Se invece ci si ascolta, come con Luigi funziona questa cosa? Ci sono precedenti illustri, Bill Evans e Jim Hall. Molto illustri, quindi abbiamo deciso, facciamolo anche noi e vediamo cosa succede. Luigi Tessarollo, un repertorio basato sul migliore American Songbook. Sì, sono autori tipo Gershwin, Berlin, classici, però abbiamo cercato di dargli un po' di personalità sia di forma di scrittura, sia di gestione della melodia con il duo, in cui cerchiamo di sposare bene il suono della chitarra con quello del pianoforte. Il duo è veramente una formula che mi appartiene molto. Io ho un sacco di progetti duo come dato e devi relazionare molto bene con l'altra persona, quindi hai contemporaneamente un grosso peso specifico e devi dividerlo bene al 50% che ci vuole esperienza. Dado Moroni invece cosa ne pensa? Meglio il duo che male accompagnati. Da Urbieto, Claudia Faientz, GR1 Grazie a tutti.